Gli insegniti al merito della Repubblica Italiana hanno un nuovo importante punto di riferimento grazie all'istituzione dell'UIR, Unione Insigniti Ordini al Merito della Repubblica Italiana, che ha insediato la sua sezione, la prima in assoluto in Italia, a Vibo Valencia. Alla presenza del Vice Presidente Nazionale Vicario Franco Graziano, dal Segretario Nazionale Antonio Montalbano, l'Assemblea fondativa ha eletto Presidente Caetano Paduano, socio fondatore e nonché consigliere del Direttivo Nazionale del Nuovo Sodalizio. Si tratta di una nuova associazione di promozione sociale operante nel terzo settore che sarà attiva su tutto il territorio nazionale attraverso le delegazioni, sezioni e rappresentanze estere nelle nazioni riconosciute dallo Stato italiano. L'Unione Insigniti raggruppa al suo interno gli insegniti all'ordine del merito della Repubblica Italiana, cavaliere, ufficiale, commendatore, grande ufficiale, cavaliere di gran coce e i decoranti di gran cordone, in quanto ritenuti meritevoli di aver acquisito benemerenze verso la Nazione nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'economia e nel disimpegno di pubbliche cariche di attività svolte ai fini sociali, finanthropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari. Il riconoscimento viene conferito dal Presidente della Repubblica. Alla presenza di tantissimi soci provenienti non soltanto dalla Calabria nel corso dell'incontro che si è tenuto presso le sale CEV di Palazzo Gagliardi, si è proceduto alla indicazione del direttivo sezionale che detterà le linee guida del prossimo quadriennio. Sono risultati eletti, oltre al Presidente Gaetano Paduano, la Vice Presidente Angela Maria Vergallo ed i consiglieri Maurizio Bonanno, Francesco Deodato, Francesco Natale e Michele Maluccio.